we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi dato che non c'erano news importanti volevo farvi vedere le posizioni delle capanne delle streghe per completare una delle sfide del fortnight mers la prima capanna la stiamo vedendo adesso come vedete siamo tra sabbie e la costa della parte sinistra della mappa la posizione è esattamente quella molto facile da capire raggiungetela per ottenere la prima capanna andando avanti per la seconda invece dobbiamo spostarci leggermente nella parte che rimane dietro siepi da grifoglio come vedete più vicino a borgo in realtà e come vedete nella collina che c'è prima del ponte rosso che collega la città c'è il secondo avamposto delle streghe proseguiamo e andiamo avanti verso il terzo verso la terza capanna dobbiamo raggiungere la parte di mappa come vedete vicino al al faro ci spostiamo leggermente sulla destra e andiamo a raggiungere questa parte di collina poco prima della piccola isoletta che c'è in basso dove c'è anche la macchina per potenziare per capirci la numero 4 invece si trova un pochettino più centrale rispetto alla mappa dobbiamo avanzare e raggiungere lo spiazzo che c'è di fianco al grande ponte quello che fa passare sopra il fiume che ricomincia dopo la cascata una volta usciti dal lago languido quindi molto semplicemente avete capito dov'è la posizione per la numero 5 invece bisogna andare un pochettino più esterni nella mappa in fondo come state vedendo ci sono foschi fumaioli questo per farvi capire un pochettino qual è la posizione e la casetta si trova una volta attraversato il fiume come vedete a sinistra ci sono fuo ci sono i foschi quindi siamo proprio sull'estremo bordo della mappa andiamo avanti con la sesta posizione siamo vicino al ponte giallo quello dove c'è il punto di atterraggio dell'elicottero vicino alle montagne del k2 per capirvi meglio e una volta che riusciamo ad andare nella parte dietro della montagna troverete anche qua sul costone della roccia un'altra casetta delle streghe questo ragazzi vi ricordo vi serve per sbloccare le sfide del fort nightmare dovrebbe essercene ancora una come vedete siamo a brughiere andiamo avanti a destra abbiamo la postazione di black panther ma proseguendo guardando avanti a noi pantano riusciamo a capire che un po seminascosta tra gli alberi qua avanti c'è una nuova postazione ed eccola proprio qua ragazzi davvero semplice davanti c'è pantano quindi è davvero facile da capire poi la riconoscete anche guardando le le lanterne insomma ragazzi queste erano tutte le postazioni delle streghe mi raccomando visitatele per completare o la challenge che dovrebbe darvi se non ricordo male il backpack io vi ringrazio per avere guardato questo video ragazzi di twitch non me ne sto andando mando solamente l'altro noi ci vediamo al prossimo video oppure adesso in live su twitch ciao